ciao ragazzi bentornati sul canale di fumetti fatti sono angelo masullo il futuro lei e shelly e oggi vogliamo soltanto farvi i nostri più sinceri auguri di buon natale passate una bella festa in famiglia se state ancora continuando a pullare shelly vi porterà come lo ha fatto con me nell'ultimo ticket si ce l'ho fatta ragazzi ce l'ho fatta a trovare lo maledetto go cultra istinto bene shelly quindi vi auguro tanta buona fortuna un bel natale e adesso ragazzi si va a fare il cenone si va a mangiare mi auguro altrettanto anche voi quindi passate una bella festa e noi ci vediamo domani sicuramente ancora e sempre di più auguri ciao